C'è una grande chiesa all'aperti, tu ognuno trova il suo posto, la fiducia e la speranza in se stesso e in Cristo Gesù. E' l'ofta, l'urde e la culla, ma senza i malati è nulla, tuoi malati invece è tutto, perché Maria li vuole da lei. E' l'ofta, l'urde e la culla, ma senza i malati è nulla, tuoi malati invece è tutto, perché Maria li vuole da lei. E' l'ofta, l'urde e la culla, ma senza i malati è nulla, tuoi malati invece è tutto, perché Maria li vuole da lei. C'è una grande chiesa all'aperti, ma senza i malati è nulla, tuoi malati è nulla, tuoi malati è nulla, tuoi malati è nulla, tuoi malati è nulla. C'è una grande chiesa all'aperti, ma senza i malati è nulla, tuoi 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 malati è nulla. C'è una grande chiesa all'aperti, ma senza i malati è nulla, tuoi 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 malati è null Il grande convegno, i ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. Il grande convegno, i ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. Il grande convegno, i ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. Il grande convegno, i ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. Il grande convegno, i ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. Il grande convegno, i ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. I ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità. I ragazzi metto all'impegno di portare l'associazione e le loro comunità.